Qualcuno che voglia acquistare qualcosa? Magari? Questo è diretto qua Questo è direttissimo qua E' DirectX qua Se rubi, madonna Ecco cosa ti succede Diventi Pikachu Harry Potter Non è magari suo parente Oh, Adorno indietro Oh, Armstrong No Mi ignora pure Ma guarda un po' te Ciao a tutti ragazzi Qui Thundering Lite E oggi siamo su Shop Keep Ehm Sì, lo so che ormai sta per uscendo il 2 Ah, no, è già uscito però E' in early edges quindi Vabbè Ehm Per ora giocherò all'1 che E' bellissimo Dai, raga E quindi Ehm Ah, comunque per chi non lo sapesse Ehm Shop Keep E' un gioco Dove devi vendere Ma ci sta troppo Quindi è bello Comunque appunto Questa è una delle tante nuove serie Che ho deciso di portare qui dal canale E quindi dai Cominciamo subito Quindi intanto comincio con ordinare Le 4 pozioni tipiche Di cura E ora Con il Si controvediamo Ne metto un bel 2 qui Poi Vediamo 2 qui Ehm Mi dicono poco di staccato in verità Questo qua E ora L'ultimo Lo mettiamo qua Al centro Perché fa troppo figo Ok Ora siamo rimasti con Zero soldi Quindi Vediamo un po' Ok Ci sono arrivate le pozioni Quindi Le mettiamo in questi laterali Però sono scemo Perché Devo aumentare il prezzo Altrimenti Non ci guadagno nulla Che sarebbe tutto un po' inutile Se non ci guadagnassi nulla No Quindi la metto Almeno un 126 Ok Allora dai Ehm Prima di aprire le porte Voglio vedere No Non c'è mai nulla Nei cestini Primo giorno Ok Perfetto Ora Non ci resta che aspettare I tizi Che Intanto io voglio vedere Ui No Qui non c'è nulla Che bello Tanta gente Allora Ciao Amber The Might The Warrior Allora Ehm Lloyd Romero Se va bene Tutti i guerrieri sono Un abitante No The Warrior Perfetto Tutti i The Warrior Eh perfetto Sono tutti i guerrieri Oh Siamo entrando No Ma perché Non sai cosa ti perdi Oh Questo Questo è diretto qua Questo è direttissimo qua È DirectX qua E allora Se rubi ti uccidi Ok bravo Si comprano le cose Forza Non sei diretto qua dentro No Il negozio è bello Ci sono C'è merce di qualità Anzi a proposito Ehm Qualcuno Che voglia acquistare qualcosa Magari Ci sono altre tre pozioni di cura qua Fra poco anche qua Sapete Questo vuole gli stivali No Avrei di meglio Pozioni di cura Quando mai hai visto un'offerta simile A soli 13 euro Questa è diretta qua Me lo sento Dai Se rubi Ecco cosa ti succede Diventi pikachu Amanda Zemetis Quella Tutti the warrior The warrior The warrior Vabbè Nel viale degli acquisti Non ci stiamo Amanda Potter Ciao Come sta Harry No 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 Non voglio Ok Ne abbiamo per ora Solo una Quack Intanto vorrei controllare Nelle skill No manca la zero Perfetto Dai quanto ci mettete Dai Solenti Come mia nonna Vuol dire Oh Perfetto Tu qui Tu qui Tu qui E tu qui Perfetto Forza Allora Intanto vado a vedere Se nel ceschino C'è qualcosa di utile No Dai Nessuno che cancella qualcosa Dai I cesini Tutti vuoti Cioè sono solo io Quello che cancella I file No Sean Potter Vabbè Si chiamano tutti Potter Qua Fantastico C'è anche uno Che si chiama Harry Aspetta Mi scusi Signor Potter Ha visto per caso Un tale di nome Harry Harry Potter Non è magari Suo parente Oh Ah torni indietro Oh Armstrong No Mi ignora pure Ma guarda un po' te Ah ti sei deciso a comprare Ah vuoi comprare questa Vuoi comprare Bravo Si compra Non si ruba Maledizione Allora Tac Oh Ora Vediamo di aggiustare Oh Oh Tac Perfetto Dai Dai Allora Forza Dai Il nostro negozio è bello Dai Forza Compra anche tu L'ho capito Che è per questo Ma non ce l'abbiamo Però abbiamo di meglio Abbiamo le pozioni di cura Grazie Tu sei brava Quella no Dai Sono che Sado Caga di striscio Il mio negozio Dai Qua ci sono Quattro pozioni Qualcuno che compra Dai Uno di questi due Dovrà Entrare Nel negozio Senti Johnson Vediamo Cosa dobbiamo fare Con questa musichetta Che Mi sto rompendo i timpani E anche qualcos'altro Dire la verità Però Vabbè Bella Alla faccia Una bella pozione Vediamo se qua C'è qualcos'altro Magari Che magari Sono fortunato No Non c'è proprio niente Addirittura Manco la spazzatura In chissà quante ore Saranno passate nel gioco Neanche un po' di spazzatura Fantastico Dai ma nessuno Allora Qua la sostituisco No No Questa No Ok L'altra Aumenta Aumenta Penso di aver capito Il perché Nessuno Si caga Di striscio Ste pozioni Ora va meglio Per un euro in più Va bene il risparmio Ne Allora Ora sicuro Mi arriva una flotte Dai Forza Entra qui dentro Che è un bel negozio C'abbiamo bella merce C'abbiamo pure La pozione Di erba Pozione selvaggia Cos'è Allora Ma perché Adesso Entro in negozio Devo Trovare un modo Per attirare gente Forza Gentaglia Dai Mi mancano Gli ultimi 5 Prendo Le skill Dai Non mi potete Lasciare così Nella No Dai No Dai Justin di Bartolo Ciao Giustino di Bartolo Chi è Bartolo Ah Ah E chi ti ha chiamato Giustino Ah È stato Bartolo Vabbè Vabbè Questo vuole il cocktail Dove ti credi di essere Alla Hawaii Cioè Giusto per dirti Di Bartolo pure lei Giustamente Zemaitis Ma Sono tutti parenti Di Bartolo Allora Di Bart Di Bart No ma questo è No questo è il top È il top Niente Perfetto Perfetto Sera E io ho trovato Qualcos'altro Di piuttosto Buono Sì Dai Allora Aspetta un secondo Perché devo Vedere Qua È là Dai Almeno uno Ecco Bravo Tu sì Che sei una brava Persona Mark Butthead Cioè Mark Testa di culo Cioè Si chiama veramente Mark Testa di culo Ma fatemi capire Un po' di decoro Vai dalla nagra Fatti cambiare Il cognome In qualche modo Ma guarda Un po' Te Questi qua No Non questo Maledizione 120% Sì Dai Ci sta Ok Perfetto Forza Nessuno Aspettate Ma quello Più Sì Mi pareva Ehm Abbassiamo un po' Il prezzo A 115 Per 100 Qua lo alziamo Fino a 115 Perfetto Ora Vediamo Se c'è qualcos'altro Nel coso dei rifiuti No Probabilmente Non c'è neanche lì Ok Ora vediamo Di ordinare Un po' Di robe Potrei ordinare Benissimo Wooden shield Già inizia a fare I belli affarotti Dai Dai Sei brava Sì Sì Vabbè Vediamo Oh Pure te È qui a fare acquisti Bravo Tutti gli altri negozi Erano chiusi Ecco Io invece sto aperto Fino A se No Stava arrivando L'altro cliente Ma almeno Guarda C'è altra merce Ma guarda Ma guarda Un po' Te Questi tipi Anzi Piuttosto Qua 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 Ok Va Vediamo 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 Si dimenticavo Intanto Che ci sono Il prezzo 122 per cento Vediamo qui se c'è qualcosa No Neanche Vabbè Direi a questo punto di aspettare la fine della giornata E via Ok 22 secondi E poi guardate che cosa succede C'è proprio Alla Wakbar Confirmed Ah Bravo Ti copri la pietra preziosa Dai Ecco Alla Wakbar E ti accorrono Fantastico Boom Dai un po' Un Alla Wakbar C'era Dai Uh 55 Vediamo Si Mica Aspetta Sto giocando A shop Kip Sto registrando Quindi mi dispiace Allora E la Volendo potrei comprare Uno di questo Poi Dove Il coso Qua Maledizio Ah vabbè Devo tornare all'inizio Perché non sono contento Altrimenti Ecco Pendi questo Lo metto Questo Verso Qui E un altro Verso Qui Ma Non è che Siano proprio Ultra Ora 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 sono messi Bene E dai Ok Perfetto Ok Allora Si può dire che ho finito Vado a prendere Sì va bene Sì va bene Basta Avviare il gioco Oddio Santo Ok Perfetto Ci siamo E niente Lo shop è pure messo bene Già dai All'inizio Partiamo bene Veramente Quindi Facciamo che concludo qui Immagino di sì Intanto salvo Perché Se poi perdo i dati Madonna Comunque Mi sa che posso concludere qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E Se volete anche Seguitemi Sui social Qui giù Nella descrizione Se volete iscrivervi Iscrivetevi Che tanto mi fate un favore E se volete Lasciate anche un bel commentino E vi auguro una buona giornata Da Thundering Light E tutto E al prossimo video Amore E io sono sempre scemo Perché Io non mi ricordo mai E dico Oh E dico mai Che devo prima Riprendere Il programma di registrazione Quindi Faccio l'altro E poi Chiudo Vabbè Bye